TikTok è come Reddit. L'intelligenza artificiale preferirà YouTube. Vi spiego questa cosa perché su Google, dopo che c'è stato l'accordo Google-Reddit, dove Google ha pagato per i contenuti di Reddit per fare in modo che faccia il training di Gemini e di tutti i suoi sistemi, Reddit, nei risultati di ricerca di Google, è diventato molto molto popolare. Ma, ma, ci sono dei risultati di Reddit che sono in prima posizione, che davvero sono pieni di spam, nonostante, nonostante le persone che gestiscono il subreddit abbiano scritto, segnalato, detto che quelle cose sono spam. Perché quando tu esageri come fa Google e dai massima fiducia ad un sistema rendendo in modo indiscriminato valore su tutte le pagine che ci sono, ovviamente ti becchi un sacco di pagine di scarsa qualità. Quindi, Reddit, in molte query, si sta posizionando in prima posizione senza delle pagine qualitative, solo perché qualcuno all'interno di Google, dato l'accordo economico, ci ha girato la manovella per renderlo più visibile. Questo è il quadro. Ma, da qui, c'è un'altra questione. I video sono cruciali per l'AI, perché l'AI va fatto e va fatto tutto il training su contenuti che sono strutturati. Creator hanno fatto dei video fantastici nell'arco di tutti questi 15-20 anni di video che sono su YouTube. Su YouTube c'erano dei video molto strutturati, che sono totalmente differenti da quelli che c'erano su TikTok, e già molte AI, tra cui OpenAI, ha fatto il training su YouTube. Qual è il discorso? Che siccome i motori di ricerca ibridi, basati sull'AI, incominciano a rispondere e mettono dei link, dei video, dagli esempi, dalle prove che sto facendo, è raro che ci sia TikTok. C'è quasi sempre YouTube. Perché è un contenuto qualitativo. TikTok è come Reddit. Essendo che sono dei video brevi, è difficile che tu riesca ad avere delle metriche per valutarne la qualità. È difficile. È veramente difficile. Su YouTube ci sono delle metriche per valutare quanto quel video, anche da esterno, non è un video che proprio fa schifo. Poi, ovviamente, se hai tutti i numeri di YouTube, lo sai quali sono i video migliori, ma anche lì ne parliamo, perché migliori per noi significa una cosa, per gli algoritmi, è un'altra cosa ancora e non è la stessa, non è la stessa cosa. Però quello che sta avvenendo è che, mentre Google sta tentando, insomma, di fare queste cose con Reddit, eccetera, eccetera, dall'altra parte l'AI generativa che offre delle risposte sta suggerendo YouTube. E questo è molto interessante, sia per i creator, sia per chi fa anche SEO attraverso questi sistemi. Reddit, Google ci ha dato un boost. Attenzione, però, perché Google potrebbe valutare la qualità delle singole pagine di Reddit? Non lo sta facendo ora, perché Google ha un sacco di brevetti, anche sui forum, su come si valuta la qualità della discussione, non è la qualità media, poi, della piattaforma, ne ha tantissime di queste cose. Non lo sta facendo, perché gli interessa che Reddit venga usato per fare il training. Quando finirà questa cosa vedremo questo caso. È un po' triste, è un po' brutta questa cosa qui, perché non ha non solo la qualità Reddit, ma ci sono risorse molto più qualitative di Reddit che dovrebbero comparire in prima posizione. L'AI sui video sta preferendo YouTube e questa è, secondo me, una considerazione, un dato di fatto molto interessante e bisogna tenere in considerazione, e ve lo faccio presente a tutte le persone che fanno tutto quello che è l'editing dei video, che si occupano di video e fanno marketing, attenzione a non farvi prendere troppo la foga con i video brevi, perché i video brevi sono importanti, fanno dei numeri molto importanti, ma le statistiche stanno dicendo sempre di più che i video lunghi stanno aumentando di tanto le visualizzazioni. L'approfondimento è interessante. Quindi, insomma, tutte queste considerazioni mettetevele per bene in testa nei vostri piani editoriali di marketing per fare in modo che nei prossimi anni abbiate una produzione video molto, molto forte. E lo dico a tutte voi le persone che fanno content creation, tutti i video vecchi, forti, forti che avete fatto, mi raccomando rifateli. Quindi, mi raccomando rifateli con tutto l'aggiornamento di oggi, non perdete il vostro archivio, non perdete la vostra conserva per l'inverno. Mi raccomando, questo è fondamentale per restare sempre sulla cresta dell'onda di quella che è la visibilità. Ci piace, non ci piace, non lo so, forse no, a me sicuramente no, però questo è il mondo, lo descriviamo, lo vediamo, e magari ogni tanto tentiamo di fare qualcosa che può dare quello scatto in più. Ciao!